questo brano è di kalashima è stato tratto dalla colonna sonora l'ultimo dei moicani dunque anche questa è una pizzica con impronte certiche non a caso ho scelto questa canzone visto i tempi che corrono oggi è come un grido di di lotta di lotta verso un nemico oscuro un nemico oscuro infido intanto ci divertiamo come vaie vaie come venere dunque io passo dalle contaminazioni tradizionali questo è un bel gruppo kalashima non vi nomino tutti i componenti De Marco e Bucarella per esempio fanno parte di questo gruppo e sono artisti di alto livello senza nulla togliere agli altri bravissimi artisti che girano nella tradizione popolare un bel gruppo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.